... Professore Stefano Flamini, per 17 anni primario dell'unità di chirurgia dell'ospedale San Salvatore, oggi chirurgo a Villa Letizia. Uno ha sguardo sulle politiche sanitarie in Abruzzo e la sanità in generale? La sanità in generale sta vivendo un momento di crisi. Va rivista alla luce della legge del sistema sanitario nazionale, un po' invecchiata, comunque sempre valida. Va rivista e riorganizzata secondo i tempi moderni. La politica sanitaria in Abruzzo oggi soffre molto rispetto ad alcune regioni del nord, specialmente Rombardia, Veneto, Emilia-Romagna. Stiamo un po' indietro. Purtroppo è un problema che ci portiamo avanti da tanti anni. Speriamo che la politica, adesso ci saranno le elezioni regionali, speriamo che la politica quantomeno copie i modelli che funzionano. Quindi diciamo una politica anche a servizio della sanità? Assolutamente sì, la politica deve essere a servizio della sanità e dei cittadini, altrimenti non ha senso, altrimenti è solo politica di potere. Il problema attuale della medicina è anche la tecnologia, un boom tecnologico che si riflette sulla problematica delle fake news e del dottor Google. Quali possono essere le terapie d'urto? Allora, le terapie d'urto, innanzitutto ieri c'è stato un evento che secondo me è fondamentale, importante, è una pietra miliare per poter ricominciare. Cioè la firma sul patto della scienza, su quel documento, è importantissima, è fondamentale. Quello che è successo ieri praticamente si dà credito alla scienza e la scienza viene rimessa al primo posto. E quindi su questo bisogna ragionare sia nell'ambito politico sia nell'ambito medico. Possiamo dire quindi che la sfida attuale è la buona informazione per il paziente e per il professionista? Assolutamente sì, l'informazione ma è un'informazione corretta. E poi va recuperato il concetto di fiducia. Cioè non deve essere un rapporto commerciale o un rapporto contrattuale, così come purtroppo siamo arrivati oggi. E il rapporto di fiducia al medico-paziente che secondo me è la base per poter creare qualcosa di sicuro e di efficace. C'è una polemica in questi giorni, un po' in Abruzzo, in Italia, sulla chirurgia robotica e le applicazioni della chirurgia robotica. Lei è un chirurgo, dove pensa che si possa applicare? Allora, penso che la chirurgia robotica sia il futuro e non è il presente. Su questo circolano delle fake news, come se il robot fosse, si scambia il robot per un chirurgo. No, il robot è uno strumento che deve essere utilizzato da un chirurgo. Cioè un pessimo chirurgo non può fare un buon intervento con il robot, perché il robot è un manipolatore. Manipolatore che toglie i micromovimenti che può avere il chirurgo, tipo il tremore fisiologico, oppure regola la forza, però l'intervento deve essere eseguito da chi sa fare l'intervento. Quindi un robot che lavora in equip con l'unità medica reale. Il robot è uno strumento, come fosse il gastroscopio per fare la gastroscopia, l'artroscopio per fare l'artroscopia. È uno strumento validissimo, ma deve essere messo in mano a chi sa fare quel lavoro. Se si mette in mano a un artigiano o un'altra persona, il robot non va da nessuna parte. Dove troverà applicazione all'Aquila, all'ospedale dell'Aquila, la chirurgia robotica? Ah, questo non lo so, è una politica, una politica sanitaria. Forse ultimamente sulla stampa ho visto delle polemiche, insomma mi sembrano abbastanza sterili, campanilistiche. Non so, le polemiche, ma il campanilismo secondo me non porta da nessuna parte. L'organizzazione, la discussione, la condivisione che poi porta alla realizzazione di grandi progetti. Si parla invece di laser come tecnica per risolvere molte patologie del piede. Secondo lei è applicabile? È realmente applicabile? Assolutamente no, perché il laser non viene utilizzato in ortopedia. Il laser è uno strumento da taglio e non può tagliare l'osso perché altrimenti lo brucerebbe. Quindi è una fake news. Quindi anche questa è una fake news. Qual è invece la soluzione ottimale e meno invasiva per risolvere le tante patologie del piede come ad esempio l'alluce valgo? Allora, le tecniche sono tantissime, ne sono state descritte circa 200. Un famoso chirurgo francese qualche anno fa diceva che il chirurgo ortopedico che opera il piede si deve comportare dal punto di vista concettuale come un parrucchiere per signora. Cioè ogni acconciatura deve essere integrata nel corpo e nella persona. Altrimenti se un parrucchiere fa la stessa acconciatura a tutte le donne alte, basse, magre, grasse e bionde, chiuderà il negozio. Perché non è così. Bisogna fare una chirurgia personalizzata in base al piede, alle deformità, alla struttura anatomica, alla funzionalità. Bisogna aggiungere, chiedo scusa, soltanto una cosa. Non bisogna mai fare sul piede interventi estetici. Non è una chirurgia estetica. E invece la chirurgia applicata all'estetica è un'altra novità dell'ultimo periodo. Cosa ne pensa? È una chirurgia importante, la chirurgia estetica. Solo che negli ultimi periodi ha preso una rotta, secondo me, sbagliata. Perché si basa maggiormente sull'immagine delle persone. L'immagine che viaggia su Instagram, eccetera, è un qualcosa di momentaneo, di liquido che va via. Se si fa una chirurgia estetica per poter poi mostrare delle foto migliori, per poter fare queste cose, è una chirurgia che non funziona. Se è una chirurgia estetica che va a risolvere dei problemi, sia fisici che psicologici della persona, è un'ottima chirurgia.